Ciao amiche e ciao amici, questo è un altro esperimento di ASMR, uno stato rilassante, ipnotico attraverso i suoni e i rumori, quindi ti chiedo di chiudere gli occhi e di iniziare ad ascoltare, lasciati andare tranquillamente, inizia a sentire e ad ascoltare, lasciati e di iniziare a sentire e iniziare a sentire, Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Bene, questo esperimento di ASMR è finito. Ti chiedo di... Se vuoi iscriviti al canale, avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere una risposta tramite un video. Servizio è completamente gratuito solo per gli iscritti al canale, però... e hai la possibilità di condividere, se vuoi, questo video con i tuoi amici tramite Facebook, Twitter o altri social network. Ciao.